buongiorno dalla redazione di tiranze smart in studio agnese fedeli domenica 25 agosto giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze raccomandiamo quindi rispetto del codice della strada di guidare con la massima prudenza al momento segnaliamo veicoli fermi in avaria in a1 tra firenzola e badia e tra monte san savino e arezzo il tutto in direzione nord siamo al traffico ferroviario sono conclusi i lavori avviati lunedì 12 agosto da rfi per la manutenzione straordinaria del vedotto paglia nei pressi di orvieto sulla linea alta velocità firenze roma i treni veloci ripercorrono adesso i binari dell'alta velocità e prima di salutarci per il traffico urbano di firenze per lavori di sostituzione guardrail si potranno verificare rallentamenti sul vedotto marco polo in direzione autostrada i lavori si protrarranno fino al 14 settembre oversi in toscana info servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana firenze comune firenze per ora è tutto buon viaggio